Salve ragazzi, 21 dicembre, scomincia ad essere vicini a Natale, e allora ho pensato di scrivere la letterina Babbo Natale, perché la scrive ai materoti, ma è meglio che la scrivano anche ai grandi la letterina Babbo Natale adesso, ho pensato di scrivere una letterina Babbo Natale per i tirolesi, per tutte le famiglie tirolesi e anche per le famiglie italiane, perché noi insomma se ne è in Italia, anche per le famiglie italiane. Allora la letterina che ho scritto a Babbo Natale è semplice, devo leserla però perché non me la ricordo tutta a memoria. Ora ve la leggo, lettera Babbo Natale, caro Babbo Natale, ti faccio una richiesta se puoi esaudire i miei desideri che sono questi dieci punti per salvare l'Italia e il Tirolo. In caso contrario, ve lo dico dopo. Allora, il primo punto seria, caro Babbo Natale, l'eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti con effetto immediato, congelamento dei patrimoni dei partiti con effetto immediato e in un secondo momento si vedrà come allocarli. Secondo punto, che mi piaceria che te me fessi Babbo Natale, solo il gettone presenza ai parlamentari con l'abolizione degli stipendi ai parlamentari senza carica, perché che basteria un gettone presenza, se fai durante la settimana, durante il mese, no? Senza carica, ad esclusione quindi degli incarichi di governo. Qui che ha l'incarico del governo, l'è giusto, il presidente, il consiglio, i ministri, che credente, o gli assessori dei consigli provinciali, che credente è una busta paga, la metà di quel che ci fa adesso. Abolizione delle indennità parlamentari e tassazione del 99% delle pensioni e vitalizi dei privilegi già acquisiti per togliere la somma di più pensioni. A chi che ha 3 pensioni, siccome che li ha acquisiti, basta tassarli con un decreto legge al 99%, così tagheto l'envala, perché basta una pensione quando che si ha 70 anni o 60 anni o 80 anni, capis? Abolizione dell'assegno di buona uscita al termine della legislatura, idem per i consigli regionali e provinciali, perché se rinca ora definirla, chi abbia tutti questi soldi a gestirle, tu soldi no, soldi pubblici, ragazzi. Terzo, caro Babbo Natale, ti domando se puoi eliminare il Senato, facciamo l'eliminazione totale del Senato, che deve sparire, che non abbiamo già assaggiato in una camera, se no, adesso non si senti, continui a begare, continui a discutere, dai che li elimini nel Senato Babbo Natale. Quarto, fammi una legge elettorale proporzionale con lo sbarramento al 4% come in Germania, che mi pare che funziona, basta copiare quando che funziona, con la reintroduzione delle preferenze, che chi col sistema che viene adesso, chi che mette lì la faccia del camel e ti te voti in camel, capisci? Perché non si può neanche assagliare le persone. E perché il proporzionale? Perché il popolo deve poter candidare, mentre nel sistema maggioritario che tanta pubblicità fanno i partiti ricchi, la strada viene sbarrata dai partiti più ricchi che automaticamente esclude dalle coalizioni le liste che non si sottomettono ai partiti ricchi, agli ordini del partito più ricco. Così fanno candidare solo chi non parla e non pensa con la propria testa, perché è uno che pensa con la sua testa. Non che ne è partiti che ti fa candidare. Devi fare la marionetta, alzar la mano quando ti dà l'ordine. Allora il partito ricco è quel che decide la coalizione. Cioè, popolo italiano, ragionate un attimo come mai che Ivan Kukan la testa o basta un partito solo. Non è vero niente, perché resta solamente i ricchi e invece la popolazione non entrerà mai più in politica. Quei che vuol pensare con la sua testa ne puol pensare. Quinto, caro Babbo Natale, fammi una riforma fiscale che continua a dire che è l'evasione fiscale. Ma allora fammi una riforma fiscale. Come? Il sistema austriaco basta andare lì e copiarlo. In Austria non c'è lo scontrino fiscale per le microaziende. Sistema forfettario. Così si eliminano tutti gli intoppi burocratici che fanno morire gli artigiani, i commercianti e tutti i piccoli delle partite IVA. Le aziende guadagnano, guadagnando di più, assumono di più. Penso che sia poco e logico. Resta il problema dell'inserimento negli altri settori lavorativi di tutte quelle attività, quella miriade di attività inventate apposta ad hoc, che questi governi hanno creato sulle spalle delle partite IVA. Che ne? Ne, miriade. Non si sa più quanta carta che ne arriva uno che ha una partita IVA aperta, le da morire. Abolizione di tutti i corsi obbligatori per persone con dieci anni di attività. Perché per Monzer la vacca gli ha fatto anche i corsi obbligatori. Uno che ha 40 anni che lavora, deve andare a fare il corso. Dopo 40 anni non hai ancora un parà a fare il suo lavoro. Bisogna andare a fare il corso. Bisogna chi che insegna metterla in una spina della corrente. Blocco delle liberalizzazioni commerciali per salvare le nostre piccole aziende. La bella legge Bersani, la liberalizzazione, tutti quei matti che avevano messo via il suo denaro per comprarsi una licenza il giorno dopo della legge Bersani, il suo denaro è andato in fumo, non vale più niente. E allora blocchiamo queste liberalizzazioni. blocco delle multinazionali su tutto il territorio italiano, riduzione costo dei dipendenti. Con questo sistema le aziende riescono a sostenere il peso di mettere denaro nelle buste paga dei dipendenti. Nel sistema forfettario non serve più commercialista, non serve ragioniere. E allora? Allora che avevano una spesa che si dimezza e allora che avevano del denaro per assumere o anche per pagare qualcosa di più i dipendenti? Sesto punto Babbo Natale. L'Italia è piena di povera gente. Povera gente perché uno con 1000 euro al mese è povero. Allora 300 euro di aumento in busta paga per i dipendenti con stipendi più bassi. E come? Siccome noi volpo darne la pensione perché l'Inps ha finito il denaro, TFR in busta paga mensile perché risulta non ci sia più denaro nelle casse dell'Inps per le pensioni. Tredicesima in busta paga mensile invece che fare la tredicesima tutti i mesi, detassata completamente e altri 100 euro dal cuneo fiscale, per gli stipendi più bassi dal cuneo fiscale. Eliminazione delle buste paga di tutte le trattenute per i vari enti associativi che sono imposte nelle buste paga, togliamole signori. Blocco delle liberalizzazioni degli orari di lavoro nei giorni festivi, escluso le zone turistiche, perché qua le multinazionali hanno imposto che si lavora anche la notte, non solo sabato e la domenica, anche la notte, la società civile. Ma come fa a vivere una famiglia? Come fa a vivere le persone che l'unico obiettivo è lavorare, lavorare, vai a dormire, davanti alla televisione, guarda la televisione, stai lì, blocco, te metton testa come devi anche camminare. Settimo, caro Babbo Natale, regolamentazione degli stipendi di tutti i dirigenti di aziende in cui le nomine sono state fatte dai partiti, e come si fa a regolamentare? Si taglia a metà immediatamente. Ritiro, oh Babbo Natale questa devi farmela, ritira tutti gli eserciti italiani all'estero, abbiamo finito il denaro? eh signori, dobbiamo pensare anche il nostro popolo, e allora ritiriamo tutti gli eserciti. Nove, caro Babbo Natale, siccome chi governa non ci ha fatto decidere, vorrei un referendum popolare per ritornare alla lira? Oppure, come hanno fatto a darci l'euro? Basta un semplice decreto legge di conversione, nello stesso modo in cui ci è stato imposto l'euro. E decimo, infine, caro Babbo Natale, quando, se riesci a far questo, dimissioni in toto entro 30 giorni del governo attuale e tutti a casa. Il denaro tolto ai partiti e alla politica serve a modificare il riassetto nazionale dei posti di lavoro, perché cambiando il sistema fiscale ci sono 3 milioni di persone che vivono sulle partite IVA, sono tutte attività inventate per le partite IVA, e allora dobbiamo spendere del denaro per inserire in altri settori lavorativi queste persone. Caro Babbo Natale, se non riesci a farmi soddisfare tutti questi regali, rammenta agli addetti ai lavori che ci penserà il popolo. Allora vorrei rammentare anche a tutti i tirolesi che forse è giunto il momento di muoversi e pensare con la testa e dire ma che sia la volta buona che riuscino a fare la macro regione tirolese e salutiamo l'Italia? Ma io un pensierino ce lo farei. Io farei questo pensierino. Ciao Italia e la macro regione tirolese se ne va. Ciao a tutti.